Buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento con Colazione a Fumetti. Oggi parliamo di un manga sempre a tema un po' Halloween e quindi se orrore deve essere, orrore sia e parliamo di Yomo Tsuegui, il nuovo manga, Rimasasumi, Kakizaki. Sottotitolato Il Frutto del Regno dei Morti è uno strano manga horror, un filo battle che devo dire mi ha subito interessato per il suo autore che sebbene io non credo di aver letto poi così tanto di suo trovo sempre assolutamente gradevole dal punto di vista visivo è sicuramente capace di appassionare con la sua pirizia grafica, diciamo e alla fine di suo credo di avere fondamentalmente soltanto Bestiarius e I Doubt da qualche parte che dovrei anche leggere ma ovviamente come spesso accade non so dove l'ho piazzato è un volume singolo e quindi magari prima o poi lo trovo. Parlando nel nostro Yomo Tsuegui di cui non ricorderò mai il titolo a primo colpo è una miniserie di tre volumi fondamentalmente ora si può anche essere che effettivamente in Giappone non abbia avuto super mega success e quindi gliel'hanno chiusa o che semplicemente ha raccontato tutto quello che voleva raccontare non c'è modo di saperlo diciamo che dovremmo arrivare al finale probabilmente per capire quanto è effettivo o quanto è tagliata via si ammette tranquillamente che effettivamente in Giappone raramente i fumetti durano così poco se hanno successo e quindi raramente hanno un finale degno ma magari non è andata così. Comunque targetizzazione seinen pubblicato sulle pagine di Gekkan Young Magazine dal 2021 al 2023 e si trasporta all'interno di un penitenziario dove Kanetsugo Nawa sta scontando la sua pena il nostro protagonista era un poliziotto ma è finito in carcere perché si è dovuto vendicare degli assassini della sua famiglia è ovviamente un personaggio sofferente condannato a 18 anni di reclusione per omicidio però gli verrà accordata la condizionale quindi uscirà e lì fondamentalmente inizierà la nostra storia evidentemente il punto forte del fumetto sono i suoi disegni sotto la sovracopertina tra l'altro troviamo questa creatura lovecraftiana che ci osserva nell'oscurità creatura che però poi vediamo anche in copertina in questa divisione in due in cui metà è il nostro protagonista e metà è la creatura appena uscito di prigione uno può pensare si rifarà una vita ma invece no perché uno degli assassini della sua famiglia è ancora in libertà e ovviamente lo troverà per vendicarsi e qui inizieranno le cose a farsi un po' strane perché oltre all'apparizione di questa strana ragazzina scopriremo che in questo mondo ci sono creature immortali perché hanno appunto mangiato questo misterioso frutto che dona l'immortalità e ora vi prego non mi dite che i frutti sono una situazione a One Piece perché non credo che si sia inventato nulla Oda nel senso che i frutti che davano l'immortalità li avevamo anche nella mitologia greca le mele d'oro eccetera comunque Super Splatter con una narrazione anche particolare ci racconta appunto di questo frutto nato nell'aldilà in qualche modo poi arrivato sulla terra e che dona l'immortalità nel caso venga mangiato la ragazzina invece si occupa proprio di estirpare questi frutti per qualche motivo e anche il nostro protagonista in qualche modo ci è venuto in contatto e appunto rischia di trasformarsi in una creatura orribile che è di questa sì chiara ispirazione Cthuliana se guardiamo la rappresentazione qua e la rappresentazione ad esempio di Cthulhu che a me viene in mente più facilmente quella di South Park sono identici in ogni caso anche la narrazione del fumetto è particolare non è quella di un tipico battle in cui incontra sempre nuovi criminali già in questo primo numero vediamo il definiamolo capo dei malvagi che poi così malvagio non sembra è un personaggio molto sfaccettato perché in qualche modo lui combatte contro la morte spera che grazie ai frutti si possa donare la vita eterna e ovviamente si contrappone invece alla ragazzina che per qualche motivo vuole che l'ordine naturale delle cose torni a regnare chi sono i buoni, chi sono i cattivi, ci sono davvero non è così chiaro, almeno in questo primo numero a parte sì ovviamente lo psicopatico malvagio dell'inizio della storia però anche lo stesso protagonista nonostante sia un buono poi è presa del suo desiderio di vendetta quindi è tutto molto molto sfumato devo dire che è un modo di raccontare le storie che mi piace i disegni sono di altissimo livello mi preoccupa un pochettino sì, il fatto che siano solo tre numeri perché forse non a tutto verrà dedicato il giusto spazio ma questo magari ne riparleremo in un'eventuale videolettura quando usciranno i capitoli 2 e 3 e quando li leggerò però ammetto che è un fumetto che ho trovato gradevole e piacevole e che non posso che consigliarvi di provare dalla ricerca appunto di una storia di questo tipo quindi personaggi molto tridimensionali creature insondabili il confine fra la vita e la morte è tutto molto 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 interessante devo dire come tematiche e io l'ho trovato davvero un manga piacevolissimo tanto più, sì, qua devo dirlo che mi è uscito praticamente insieme a Lily Man che aveva in copertina un altro personaggio metà e metà e devo dire che il confronto è stato impietoso e forse mi ha fatto apprezzare ancora di più quest'opera qua però, vabbè ora dal punto di vista del fumetto vabbè, è il classico Tankamon di Planet quindi abbastanza morbido costa 7 euro che non è nemmeno troppo bella solo la coperta plastificata che non si rovina insomma sotto tutti i punti di vista non posso che promuoverlo vedete la ricerca ribadisco di una cosa di questo tipo fateci un pensierone non sarà nemmeno una grande spesa perché alla fine sono 21 euro col 5% di sconto tra l'altro in genere mi è piaciuto bellino quindi se siete arrivati fino alla fine di questo video lasciatemi nei commenti un frutto preferibilmente un frutto dell'Oregno dei Morti ma se trovate un frutto normale va bene anche quello se vi è piaciuto il video mettete un like iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo vi ricordo che mi trovate live tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 18 e la domenica alle 21 su Twitch poi c'è Instagram, TikTok, Facebook Telegram, gruppo in cui prepariamo i fumetti canale con le notifiche canale con le offerte noi come sempre ci vediamo al prossimo video e per ora potere pelato grazie a tutti grazie a tutti